Il ginocchio in 3D, il congresso monotematico sulla chirurgia del ginocchio rivolto a tutti gli esperti che lavorano e cooperano nell'ambito della chirurgia articolare, in corso di svolgimento a Chieti nell'auditorium del rettorato dell'università. I lavori in quattro sessioni, oggi traumatologia e medicina dello sport, domani mattina si parlerà di ortobiologia, quindi dei fattori di crescita delle cellule staminali, segmento finale dedicato invece alla protesica, ovvero la parte più importante con ospiti di fama nazionale e internazionale. Roberto Buda, direttore della clinica ortopedica e traumatologica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, nonché presidente del congresso. Ecco, il tema delle patologie del ginocchio verrà affrontato, diciamo così, con una visione di insieme. Spieghiamo proprio nel dettaglio. Dunque, parleremo praticamente di tutti quelli che sono gli aspetti della patologia del ginocchio, che sappiamo essere l'articolazione madre, una delle articolazioni più importanti, in quanto fa parte dell'apparato locomotore, fa parte di quella componente che è la dinamica del passo, del cammino, quindi diciamo che è fondamentale nello spostamento dell'individuo. Il ginocchio è l'articolazione forse più importante da questo punto di vista, perché si trova praticamente al centro dell'apparato locomotore. Quali sono gli sport che mettono più a rischio il ginocchio? Sono gli sport dove abbiamo un contatto diretto, quindi un trauma diretto, oppure dove abbiamo dei movimenti di pivoting, cioè di distorsione, di rotazione del ginocchio e quindi dove c'è una componente combinata di appoggio, carico, rotazione e magari una componente esterna che spinge e sbilancia lo sportivo. Quindi diciamo il calcio, diciamo fondamentalmente tutti gli sport di contatto come il rugby o altri sport del genere, ma anche lo sci dove in realtà non c'è una componente importante da questo punto di vista, tranne quando lo sci non si stacca dallo scarpone e quindi fa da leva e quindi praticamente blocca lo sportivo sul ginocchio e quindi poi il corpo andando avanti, sostandosi in avanti per forza inerziale, determina una rottura dei legamenti. Quindi lo sport in definitiva può danneggiare il ginocchio? Sì, lo sport se gestito male o se ci sono delle condizioni diciamo purtroppo che possono succedere per traumi sportivi legati proprio alla forza dell'impatto dello sportivo o anche dall'avversario dello sportivo può dare dei problemi al ginocchio e noi diciamo siamo qui proprio per riparare queste lesioni. L'ultima congresso denominato, mi piace molto questa espressione, il ginocchio in 3D, perché? Beh proprio in questa tridimensionalità del problema, vedere le lesioni non da un punto di vista solamente focalizzato ma a 360 gradi su tutto l'ambito.